E' una settimana decisiva, quella appena iniziata per il futuro dei lavoratori ex GDM. Dichiarato lo stato di insolvenza da parte del Tribunale Civile di Milano, che ha deciso nei giorni scorsi per l'amministrazione controllata, dell'avvertenza, come si sa, si è interessato anche il segretario generale della Cisle, Sergio Bonanni. Venerdì scorso a Reggio Calabria, per partecipare ai lavori congressuali e provinciali, il leader nazionale Cislino, dopo essersi intrattenuto a lungo con i rappresentanti dei circa 170 dipendenti casintegrati, si è recato in prefettura dove a riceverlo è stato il padrone di casa Luigi Varratta. Ed è proprio in quella circostanza che il prefetto di Reggio, che già conosce a fondo la vicenda e fin dal primo minuto si è sempre dimostrato sensibile alle problematiche occupazionali sollevate, ha ribadito il suo impegno a riconvocare nuovamente tutte le parti. In assenza di certezze, quantomeno nel breve termine, per quanto concerne il destino della GDM, sono adesso i lavoratori a riporre speranze in attesa dell'incontro convocato dallo stesso Varratta per percole di prossimo a Palazzo del Governo. Allo stesso tavolo siederanno il commissario straordinario nominato dal Tribunale di Milano Giovanni Massoli, Marcello Foti, presidente di Eurologistic, società che ha preso in affitto la gestione dei 15 punti vendita a grande distribuzione meridionale, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori. Si aspetta adesso giungono le risposte sperate. Grazie. Grazie.